Come ha liberato San Pietro e San Paolo mandati ad annunciare il Vangelo in ambienti difficili e ostili, così il Signore è sempre al nostro fianco e non ci abbandona nel momento della prova. Lo ha ricordato Papa Francesco prima della preghiera dell'Angelus recitata in piazza San Pietro nella festa dei Santi Apostoli Patroni della città di Roma. San Pietro fu salvato in modo miracoloso dalla prigione a Gerusalemme e pote portare a termine la sua missione evangelizzatrice. San Paolo riuscì a superare le forti resistenza alla sua predicazione grazie alla liberazione del Signore. Entrambi, ha spiegato il Papa, ci dicono oggi che il Signore cammina con noi, sempre. Specialmente nel momento della prova, Dio ci tende la mano, viene in nostro aiuto, ci libera delle minacce dei nemici, ma ricordiamoci che il nostro vero nemico è il peccato e il maligno che ci spinge ad esso. Quando ci rinconciliamo con Dio, specialmente nel Sacramento della penitenza, ricevendo la grazia del perdono, siamo liberati dai vincoli del male e alleggeriti dal pezzo dei nostri errori. Così possiamo continuare il nostro percorso di gioiosi annunciatori e testimoni del Vangelo, dimostrando che noi per primi abbiamo ricevuto misericordia. Infine Papa Francesco ha pregato per la Chiesa che vive a Roma e per la città, perché i suoi patroni le ottengano il benessere spirituale e materiale e il popolo romano viva in Fraternità e Concordia, facendo risplendere la fede cristiana.